Infatti oggi siamo qui perché per noi annunciare che abbiamo rinnovato il conto... Aspetta, spesso, vogliamo un attimo... Che succede? A nome di tutta la squadra, visto che siamo in tutti, ma ringrazio a Dupo, visto che ha deciso di smettere, e quindi, insomma, volevamo prima di tutto partecipare alla partita a Dio che farà fra un po' di giorni, e soprattutto comunque dirgli grazie per quello che ci ha dato in questi mesi. Noi stavamo facendo rinnovo di un anno, eh? L'autografo lo vogliamo, però. È rimandato, eh? Come è rimandato? Allora mi hai preso in giro? Ma hai detto che volevi farlo smettere, non hai trovato il terzo allora? Non c'è stato, non lo guardo, non ci abbiamo avuto il coraggio. Porca miseria, mettiamo via per il prossimo anno questo allora. Mettiamo via per il prossimo anno questo allora. C'è una grossa società del Nord Europa che mi sta pressando, eh? Porca miseria. È vero, una grossa società all'IKEA. Dunque.